Buongiorno, sono Simone Perata, lo chef del ristorante La Sporcaccuna di Savona. Ho deciso di intraprendere questo progetto in quanto stimo molto Claudio e abbiamo la stessa filosofia di cucina. Le idee per migliorare i miei piatti diciamo che non si finisce mai di imparare, quindi è giusto informarsi, studiare e poi mi piace viaggiare e ogni volta che viaggio cerco di carpire i segreti, gli ingredienti di ogni paese in cui mi trovo. Il piatto che più mi rappresenta è un mix di cultura, sapore e tradizione e consiste in una mille foglie di tonno rosso, fegato grasso, miqui, foie gras e alganone. Agli ospiti che vengono la prima volta alla Sporcaccuna consiglio di scegliere il menù di gustazione in modo tale da conoscere la mia filosofia e il mio stile di cucina. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!